Buongiorno, coccatrizio. Fa! 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 Che c'è? Che c'è fa? Eh? Che cazzo dice? Ma che cazzo dice? Non ho capito che. Fa! C'è il nome fatica? Si. Fa! Si. Fa! Fa! Vai, ride, 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 ride. Tira fuori sta spada, forte. Fai una canzone, vai, vai, le mattina, vai. Si. Dai, canta. Guarda che capelli. Dai, canta, la Maria dona. Canta, canta. Che canto? Una canzone che ti piace, dai. Si. Dai. Viva Maria, Maria la regina. Bella, questa è nuova, eh. Regina della pace. Si mangia una salsiccia alla brace. Ma perché? Ma perché? Ma perché? Ne era bella? No, non è bella. Eccoci qua. Ha preso la macchina. Mia sorella, guardate che lavoro. Cioè, ma come cazzo si farà a guida? Con lo sterzo sul gozzo. Ma io non lo so veramente. Boh. Ah. Si risponde. È dai tempi dello scooter che le donne guidavano tutte in proma sul sellino che veramente, boh, dietro c'entravano altre 4-5 persone. Tutte, tutte così. Sullo scarabeo specialmente, da voi capitava, tutte così stavano. Le donne, sì, sì, sullo scarabeo. Un bel sound check. Ma buongiorno, belli carichi stamattina. Tutti insieme con i Moneskin. Ok? Ci sei? Sulle mani, sulle mani. Io vi amo. Yeah. Ci si riprova. Giochiamo contro De Bruyne. E l'altro ragazzo ancora non l'abbiamo chiesto. Dicidete voi. Ma io il mio compagno, eccolo. Jack Sparro del Pale. Anzo. Light. Ecco la cuoca. Grazie mille. Solo io non mangio light. E beh, più certo. Comunque ragazzi, so il nome in anteprima. Sì. Te l'ho inventata. No, no. La chiameranno Carmencita. È vero o no? Verilino. Eh? Carmencita ci ho chiappato? Stipide. Ci ho chiappato? Eh. È vero? Carmencita, ragazzi. Notizia bomba. Carmencita di Vaio. Subita rompa, appena sono arrivato. Ma che sta a fare di lì? Ma chi? Come chi? Che sta a fare di lì? E niente, stava guarda che mangiate. C'è il mister Cerzi. Io veramente. Ciao mister. Ciao Federì. Bravo che mangi sano perché di questo no ci ingrassiamo e basta. Via. Io adesso chiudo il sipario e ci arvedemo eh. Stiate bene. Saluta il mister dai. Salutelo. Salutelo, salutelo. Dai. 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 Te levo il segui su Instagram, giuro. Oh eh. Mi servirebbe un premio da Giulia. Mi ridai quella di GQ per favore, parti scherzi, la c'è tempo tanto. Quella? Di chi è? Quella ormai è la mia. Mamma mia. Certo che. Ci starebbe bene. Veramente. No, questi occhiali li posso piar? Perchè dai? Per giocare a padel. Lambellini. Posso piarli? No no, fa un giurettino. Perché ci ha avuto paura che levavo il segui ecco e non ci ha portato. Ha fatto macchino. No. Fanno tempo di spinimento. Guarda di là, guarda di là. Ti sei vestito da macchina. Guarda che lavoro. Ma questa è l'andata con la Mercedes. Siccome il periodo di vacanze è finito, un po' per tutti, si inizia anche ad andare a scuola. Guardate su Bidu che offerte. Un MacBook Pro, 8 ore e 93, 29 puntate utilizzate. Inoltre Bidu ha riservato una pagina solo per la scuola. Eccola qua. Back to school. Guardate quante offerte pazzesche. Forza ragazzi. Puntiamo. Guardate che lavoro. Tutti questi fantastici prodotti sono tutti originali e potete vincere l'asta oppure comprarli direttamente a un prezzo vantaggioso. Ora vi lascio 10 puntate solo per i nuovi iscritti. fate swipe. Sei pronto o no? Sì. Namo? Oh. E lei? Dov'è lei? È lei. Namo o no? Sono pronto. Andamo? Andamo! Andamo! Basta! Sì ma... Ti vuoi sapere? Dov' andamo? Affanculo! Affanculo! Balla! 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 Incredibile! Ma tu con questo zaino dov'è? Affanculo! Ehi sei tu! Oh! Eccoci! Guarda che è le 4! È andata laggiù. Eccoci! E leva questa tavoletta! Ma no Marie! Sei pronta? Sì! Tutti a ginnastica e via! Anche sotto palla! Sì! Basta che ti fermi! Oh! Testa di cazzo! È verde! Oh no! Sto a riposare gli occhi! Ma quel riposo! Che riposi! Ah tu li puoi riposare o no? Ma tu! Quando senti la maglia! Quel riposo! È verde! A me la devo passare! Ma che è? Un campo minato oggi? Eh? Ma che muozi? Non perdiamo te! Ma quanta roba hai messo? Io sono uno! Ci serve tutto! Ci serve tutto! Oh no! Ci andiamo? E bevete un po'! Ma ci andiamo? A fanculo! Sì! Mi c'è anche subito! No! Sempre a fanculo! Non c'avevo la maglia di ricambio! Vedi? Vedi? Sto a petto nudo! Ho andato sul grosso! Guarda! Ah! Sei proprio un grosso coglione! No! Allora Mari! Di qualcosa! Ma tu sempre queste parole! Di qualcosa per cortesia! Eh! Vi ci ringraziamo che ci porta al passo! Davvero! Vi ci ringraziamo sempre queste parole! Fermati! Dio! Eh! No! No! No no! Subito subito! Eh! Mi toccare la capace che mi fai subito un cazzo! Oh! È d'oro! È d'oro! È d'oro! È d'oro! È d'oro! Vedi! Ti hai detto no? Che? Chi era? Oh! Eh? Chi era? tu sei scemo tu lo metti lì perché dopo lì al guarda come no? sto a fare un s*****o chi ha chiuso? apri eccolo eccolo prego sono venuto a riceverla qui c'è il bambolotto tu sei venuto a chi a Lucazzotti? no come Lucazzotti? prego si accomodi prego si accomodi mi lascia il bambolotto mi dia la mano mi dia la maffè non da cacci che ce lo fai? fermati mi chiesto ti sto dando la mano ecco no tu mi stai sfigando finalmente sono tornato a vedete sono tornato a controllare a controllare a controllare che? a controllare il cincillare ma tu non c'è da venire per niente? ma questi pantaloni ne ho arrivato tema di Dio la benedizione benedico i poveri si impotenti è un peccatore ma lei ti dico io sta là bello a roma si incazza subito vedi come picchia un martellone probabilmente non lo so ancora non c'è niente di ufficiale ma molto di ufficioso si faremo qualche giorno al mare si non voglio spoilerare capito? un'estate al mare stile baleare stile baleare guardavante è contento il coccodrillo che si fa la frittura del pesce eccolo ma chi mi ha trovato la cosa? pronto? ma chi è? nebote ma chi è? eh nonna che vuole? che vuole nonna? un panneggio grillo guarda come si alza è un felino armagna gli ha chiesto la porchetta un'altra volta armagna la porchetta un'altra volta guarda i popoli che hai fatto guarda i popoli ma guarda i popoli che c'è ma fatti cazzo tu guarda per te armagna la porchetta guarda i popoli guarda i popoli niente niente no no non c'è più lukaco vai vai capimola per l'ata c'è più lukaco ci andiamo a foligno non capimola parlata vai la miretta a me andiamo a vero perché sta pieno corre corre sta pieno andiamo a vero ma com'è sto papa? non ci rimette toh toh io ho pregato tanto veni al signore toh toh per te per quelli che già volevano fare il pacco lui è buono ma gli ultimi ma secondo me si rimette adesso adesso fa tutto così no no adesso se li mette a fine anno adesso farà tutto un papaturra si 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 ha chiamato i cantanti di odato tutti quanti va via va via allora con delle luci della madonna cioè delle cose pazzie smettala smettala le schematte smettala non va via lui che è buono ma adesso fa il papaturra capito? si fa il papaturra da te che ne pensi del papa? ma io del papa da me mi fa tutto bene cioè da me mi fa tanto bene ma che ne pensi? ma da me mi fa serio ci sta ma che ne pensi? ma cosa pensi? cosa pensi per me? ti interessa il papa? no a me mi interessa niente del papa? che ne pensi? cosa pensi? cosa pensi? cosa pensi? niente perché c'è nonna adesso nel dici bravo bellino bellino sennò dice il parolino io sono religioso c'è la cristoteca tutti no 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 guarda sto cazzo che è buono guarda sto cazzo guarda tutti che fanno il calcio mercato invece io faccio il papamercato vi dico che si dimette il papa 100% sono convinto anche se adesso smentisce farà il papatur e poi si dimette oh no che pozza fa le fiamme dal culo ma perché no le fiamme ma come arrivi per dietro mi hai spavuto piano piano ma cammina levati di coglione che faccio un pennello il cavolo mi hai da fare vattene ma manca un pennello no e che torna a fare arrivi mi ha spavuto è l'improvviso dimmi se ti posso fare un pennello ma tammen me la fa niente cosa fa? niente e dai a te a dormire e ora ci vuoi comunque secondo me tra pochi giorni tornerà il cantante adesso vediamo un attimo nel frattempo sto a guardare il barbagiani ma quanto è bello il barbagiani bello il barbagiani guardalo guardalo ha visto una figa è volato guardalo il barbagiani da figa è incredibile mamma mia ora com'è che puntava la sorca guardalo guarda il barbagiani che fa? guardalo 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 destro sinistro antipasto misto incredibile guarda come fa quella fine non la posso mettere perché è un po' o se barbagiani da sorca quindi vedo la buona notte ci vediamo domani grandi coccodrilli notte guardalo guardalo Grazie.